La eterogenità è il suo più grande valore, proprio sui valori dobbiamo, questi valori dobbiamo costruire una nuova società più inclusiva, più aperta e proprio per questo più sicura. La storia ci ha insegnato che i muri che separano non risolvono i problemi, probabilmente ci insegnerà che questa guerra la si vincerà non con le armi, ma proprio con la prevenzione. Sarà un cammino lungo, per di più, che seguirà, si articolerà per strade ancora da costruire, ma si tratta di un cammino obbligato. Io penso che ci dobbiamo credere e dobbiamo anche ricordarci nel crederci che non siamo soli. Tanti sono gli insegnamenti di ieri e di oggi che ci affiancano, come quello di Fernand Brodel, che vale per il nostro modo di agire, per cogliere il modo giusto di agire, secondo cui la storia si fa, si interpreta e si racconta, e in questo caso parliamo di questa storia attraverso il dialogo tra tutte le scienze umane, o come quello di Bauman, che vale per determinare l'orizzonte del nostro agire, che proprio oggi sulle pagine di Repubblica ci dice che siamo chiamati a unire e non a dividere. Qualunque sia il prezzo dei sacrifici che dovremo pagare nell'immendiato, a lungo termine la solidarietà rimane l'unica via possibile per dare una forma realistica alla speranza. Grazie. Grazie, onorevole Ferrari. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo al Governo se intende intervenire ora o si riserva di farlo successivamente. La seconda, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 16 giugno 2015, ore 10, svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Ore 12, seguito della discussione del decreto legge recante e disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante e disposizioni in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Seguito della discussione della relazione ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002 numero 189 sulle azioni adottate per la gestione dei flussi migratori e sull'impiego di lavoratori immigrati in Italia nel periodo ottobre 2013-aprile 2015, approvata dal Comitato Schengen. Seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative di competenze in merito al personale del Servizio Sanitario Nazionale al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza. Seguito della discussione delle mozioni in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto della minaccia terroristica di matrice jihadista. La seduta è tolta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.